Musica Non c'è nessuno, non c'è nessuno Questa è la festa di Sant'Aida, che ho scritto di sembrere Sicuramente come quello che riusciamo a vedere attualmente non ci sono turisti per quanto riguarda il nostro settore non si riesce a lavorare così come negli anni precedenti diciamo che negli anni precedenti alla pandemia c'era tantissima gente, qui era pienissima di gente che siano gente del posto, gente che veniva dai turisti stranieri A Catania comunque a febbraio per la festa di Sant'Agata è un mese che si lavora abbastanza, abbiamo molto turismo ma quest'anno molto di meno, è spenta la città Spiro un'aria triste perché essendo che non c'è la festa non esce la Santa e i catanesi stessi ne soffrono e ne soffriamo tutti sia a livello di lavoro perché si lavora di più e come si vede magari si è fatto un giro e vede che ci sono le strade deserte che in questo giorno qua particolare c'erano un milione di persone in giro Quest'anno mi sento un po' male non vedendo se è andato ad uscire La festa non c'è parte, i turisti non c'è niente e stiamo campando Abbiamo a te di dare sempre 5 euro E via del signore così, come si dice Grazie a tutti Grazie a tutti.